buongiorno benvenuti alla terza puntata di frammenti oggi non partiremo non da un libro ma da una serie di rapporti il primo rapporto che vi voglio presentare è il seguente agromafie rapporto che è arrivata alla sesta edizione e che è pubblicato da eurispes col diretti e osservatorio sulla criminalità organizzata nel settore agricolo e agroalimentare il secondo rapporto invece è agromafia e caporalato che è arrivato alla quinta edizione io qui ho la copia della quarta edito da flat cgl e dall'osservatorio placito rizzotto questi due rapporti si integrano perfettamente e sono molto importanti per capire lo stato delle infiltrazioni mafiose nel comparto agricolo la mafia si è accorta che il cibo è fondamentale per la vita dell'uomo e nell'economia nazionale e quindi ha progressivamente infiltrato la propria presenza in questo comparto nel 2011 pietro grasso ha affermato che è come se ogni famiglia italiana avesse aggiunto un posto a tavola e fatto spazio alla criminalità organizzata che cosa si intende per agromafia per agromafia si intende l'infiltrazione appunto la penetrazione della criminalità organizzata in tutto il comparto agricolo dalle materie prime alla distribuzione e alla vendita dei prodotti per cui le agromafie sono un problema molto serio perché creano un danno all'economia e all'agricoltura legale molto molto importante quindi noi ogni volta che ci mettiamo a tavola dovemmo crederci quanto malaffare quanta mafia c'è nel nostro cibo in realtà il rapporto tra mafia e agricoltura è un rapporto antichissimo plurisecolare addirittura prima all'inizio dell'età contemporanea e poi soprattutto a cavallo dell'unità d'italia e nella prima parte del nuovo stato unitario le mafie hanno ottenuto dai proprietari terrieri una relazione molto stabile perché perché i proprietari terrieri soprattutto i grandi latifondisti del sud avevano due ordini di problemi da risolvere il primo ordine di problema era che essendo grandi allevatori erano soggetti ai furti di mandrie il cosiddetto abigeato i furti di mandrie avvenivano nelle campagne anche loro effettuati da bande specializzate per o per chiedere il riscatto semplicemente al proprietario della mandria oppure per avviare questi questi animali alla macellazione clandestina quindi per tentare di fermare questo questo reato i proprietari terrieri assoldano queste bande criminali già organizzate perché l'organizzazione criminale abbiamo documenti avviene già alla fine all'inizio dell'ottocento per appunto far fronte a questi problemi il secondo ordine del problema invece è quello delle continue rivendicazioni di condizioni migliori di vita sindacali e di salario dei contadini e dei braccianti che lavoravano operavano su questi grandi fondi anche qui la mafia sarà molto utile perché attraverso la violenza e l'intimizzazione conterrà contenuto questo fenomeno addirittura alla fine dell'ottocento e poi per tutti i primi vent'anni del novecento assistiamo a uno scorrere di sangue nelle campagne veramente molto elevato perché alle rivendicazioni dei contadini alle rivendicazioni del movimento sindacale e anche di alcuni preti molto molto coraggiosi la mafia e i proprietari terrieri alleati risponderanno con la violenza possiamo cogliere infatti se noi facessimo una stima vedremo che i morti nelle campagne in questo periodo sono veramente moltissimi i reati e le agromafie quali sono allora attualmente la criminalità organizzata affianca ai reati tradizionali invece una forte spinta innovativa cioè nelle campagne non solo ormai del sud ma in tutto il territorio nazionale e addirittura all'estero si perpetuano dei reati tradizionali come ancora una volta l'abbigeato la macellazione clandestina che è un reato pericolosissimo per la salute pubblica perché avviene senza nessun controllo di tipo sanitario la l'abusivismo in campo agricolo la lo sfruttamento intensivo dei boschi in modo assolutamente illegale la l'imposizione di prodotti ai commercianti per esempio il caffè o lo zucchero quindi impossibilità per il commerciante di scegliere prodotti liberamente il controllo degli grandi mercati ortofrutticoli i danni a scapito dall'unione europea per la sottazione e l'utilizzo improprio di fondi e soprattutto il caporalato il caporalato è una piaga che in italia c'è sempre stata ma in questi ultimi anni ha subito una modifica soprattutto perché hanno coinvolto viene vengono coinvolte nello sfruttamento del lavoro anche i migranti i clandestini entrati in italia perché le mafie si sono alleate con gruppi criminali internazionali e quindi seguono la filiera in questa volta criminale delle migrazioni dei paesi di origine fino al campo e questa è una piaga veramente orribile perché riconduce a un sistema quasi schiavistico del lavoro e poi c'è l'innovazione invece cioè il riciclo dei denari riciclaggio del denaro sporco avviene non solo con metodi tradizionali ma anche quindi acquisendo per esempio bar ristoranti supermercati ma anche attuando quella che si chiama la lavanderia digitale la cyber laudering cioè investendo capitali di provincia di provenienza illecita attraverso i sistemi della rete della finanza digitale e poi attraverso light frequency trading cioè investendo i soldi in queste contrattazioni ad altissima velocità che permettono di investire disinvestire e creare speculazione su tutti i mercati finanziari l'ultima frontiera del riciclaggio non è più quella del denaro sporco ma è del denaro pulito cioè le aziende che hanno fatto fatturati leciti con sistemi alla luce del sole danno alle mafie i ricavi per essere investiti in attività invece o borderline o addirittura illecite l'interesse delle mafie per quanto riguarda il comparto agricolo è ampliato anche dal fatto che il made in italy è il brand che tira di più al mondo solo nel 2017 l'italia ha esportato prodotti agricoli agricoli e agroalimentari per 41 miliardi di euro quindi è un patrimonio di fiducia del consumatore è un patrimonio anche culturale e no gastronomico immenso infatti l'italia esporta in tutto il mondo soprattutto vini formaggi oli e salumi di qualità che vengono molto apprezzati appunto all'estero il fenomeno di imitazione e contraffazione dei prodotti agricoli alimentari prende il nome di italian sounding cioè vengono venduti con marchi simili o nominativi simili di prodotti italiani prodotti che in realtà non sono stati messi appunto in italia ma all'estero da aziende compresenti create investendo capitali sporchi per esempio e poi questi prodotti che hanno delle materie prime di scarsissima qualità vengono venduti all'estero evocando prodotti italiani il famoso parmesan per esempio questo porta alle mafie grandissimi guadagni con pochissimi rischi perché le legislazioni internazionali e anche la legislazione italiana per dire la verità non riescono ad essere adeguate ad affrontare questo tipo di reati adesso addirittura la mafia e la criminalità organizzata punta ad acquisire i marchi storici dell'alimentare italiano perché questi marchi hanno una tale spendibilità che ovviamente porteranno a enormi guadagni a livello internazionale come possiamo reagire a questo questo fenomeno possiamo reagire su diversi livelli e a diversi anche livelli istituzionali attraverso politiche mirate per esempio le politiche state messe in campo dall'unione europea e dalla in parte dalle legislazioni italiane è quella della tracciabilità cioè ogni prodotto dal campo alla tavola deve avere un tracciamento dove si registrano tutte le informazioni di base e di passaggio del prodotto stesso e poi la ritracciabilità cioè creando degli archivi in cui vengono inserite tutte queste informazioni in modo tale che se un giorno si scopre che un prodotto è adulterato o qualsiasi altro problema si potrà andare a scoprire qual è la responsabilità della del reato interventi legislativi in italia è stato fatto con l'importante decletto legislativo del 1996 la legge 109 che consente allo stato di sequestrare i beni alle mafie e darli in affidamento a società oppure associazioni o meglio ancora cooperative che li possono utilizzare a fini sociali in campo agricolo questa legge ha avuto molto successo perché proprietà terriere masserie cascine agricole sono state affidate definitivamente a cooperative agricole che hanno poi riavviato la produzione di questi possedimenti e creando lavoro legale pulito e soprattutto prodotti per lo più biologici e sani che contribuiscono appunto a un sistema sostenibile i famosi prodotti libera terra che si trovano ormai in quasi tutte le catene di supermercati e nelle negozi dell'ecosolidale e poi l'importante ddl del 25 febbraio 2020 quindi recentissimo che recepisce buona parte delle risultanze della commissione caselli di giancarlo caselli che era stata che aveva avuto l'inizio dei lavori nel 2015 e che risistema tutto il comparto legislativo per quanto riguarda agro mafie e agro pirateria e noi come possiamo in realtà contribuire ad eliminare la nostra mafia dal piatto possiamo farlo facendo pressione sulle grandi distribuzioni perché la grande distribuzione non acceda alle aste a doppio ribasso online le aste a doppio ribasso online creano un problema soprattutto nel campo ortofrutticolo perché consentono alla grande distribuzione di comprare prodotti agricoli a bassissimo costo e il bassissimo costo inciderà poi sulle aziende che producono i produttrici le quali appunto verranno penalizzate perché o dovranno ricorrere allo sfruttamento del lavoro e alla minore qualità oppure quelle sane verranno messe in difficoltà da una concorrenza di tipo sleale e poi possiamo quando andiamo a fare la spesa studiare le etichette le ultime direttive l'opee impongono una etichetta molto molto rigida che deve dare tutta una serie di informazioni la legislazione italiana ha recepito queste direttive l'ultima per esempio è sui sughi sul pomodoro adesso non vi faccio vedere ovviamente la marca ma è stato imposto che nelle sbarattoli di pelati e di sughi debba essere specificata la provenienza del prodotto inseso come materia prima non come prodotto finale perché fino a qualche tempo fa prima delle etichette il consumatore che andava a comprare una scatola di pelati comprava una scatola di pelati pensando che fosse stata messa a punto in Italia ma in realtà poteva esserci del pomodoro di provenienza cinese dove viene utilizzato il lavoro coatto per esempio nella produzione del pomodoro o di altra provenienza invece noi leggendo l'etichetta sappiamo siamo consapevoli da dove arrivano le materie prime e poi dovremmo fare lo sforzo di comprare prodotti certificati o da enti terzi oppure dalle autocertificazioni delle aziende perché adesso le aziende hanno sempre più l'interesse a difendere i loro prodotti dimostrare la qualità degli stessi e quindi si affidano anche ad autocertificazioni e poi dobbiamo evitare di comprare i prodotti troppo a basso costo perché dietro il basso costo c'è sempre qualcosa che non funziona questa è una materia molto complicata e magari un giorno la riprenderemo in alcune parti io adesso vi saluto e vi do appuntamento a frammenti 4 ciao